Noi sapevamo, noi siamo lavorato tanto su questo, che loro è una squadra che fa tanto presto, però sì, l'arbitro, a qualche fallo loro fiscava, non era che pure ha munito tre, quattro cacciatori nostri, penso che non va bene, però se sta, dai, non è una scusa, pareggio si sta pure, però noi abbiamo lavorato tutta la settimana per venire qua per prendere tre punti, che era importante per noi, però se sta, dai, adesso andiamo a Roma, riposiamo, perché dopo iniziamo, torniamo con Mila a casa. Secondo me non è meno desilusione, sapevamo che non era facile venire qua e prendere tre punti, siamo dato tutto fino a 91 minuto e quindi va bene così. Grazie a tutti.